Mi trovo a Vallo della Lucania e sto per incontrare il presidente degli ordini degli avvocati di Vallo della Lucania, l'avvocato Lentini e altri esponenti per discutere della problematica legata alla mancanza organico presso lo stesso tribunale. Ho sentito l'esigenza di fare una segnalazione, l'abbiamo chiamata lettera aperta, manifesto, comunque abbiamo precisato dei punti rivolgendoci alle massime autorità in materia di tutela dei diritti, cioè al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del nostro tribunale, oltre anche al Ministro Bonafede. Il problema del tribunale di Vallo della Lucania si dirama in due questioni. Una questione strutturale che è insufficiente a assorbire il carico del lavoro, cioè oltre 8.000 procedimenti civili scritti a ruolo che non riescono ad essere smaltiti. A questo poi si deve aggiungere una carenza di organico, perché periodicamente o vengono trasferite oppure vengono nominate persone che per un motivo o un altro sono in concedo parentale, in aspettativa, noi non riusciamo ad avere dei 12 magistrati un numero effettivo in pianta organica. Questo crea un ulteriore disagio alla gestione del contenzioso civile. Pertanto abbiamo ritenuto di dover sollecitare questo problema. Le risposte ad oggi, ma abbiamo scritto meno di una settimana fa, non sono pervenute. Se non dalla politica, come sostegno dalla società civile, il Codacons, molti amici sindaci, molti amici onorevoli ci hanno assicurato la loro solidarietà. Però la risposta che noi ci aspettavamo era di aprire un colloquio con queste istituzioni per trovare una soluzione. Perché, ripeto, se domani mattina riuscissimo ad avere dei 12 magistrati in pianta organica, tutti e 12, al lavoro, non risolveremmo il problema dell'arretrato. Quindi noi dobbiamo a. vigilare perché i 12 posti siano coperti, b. trovare una soluzione per lo smaltimento dell'arretrato. Il Codacons Sicilento ha deciso di appoggiare l'iniziativa dell'Avvocato Lentini perché il problema del personale e in primis il problema dei magistrati, della carenza di magistrati al Tribunale di Vallo della Lucagna, è un problema vecchio, è un problema che spesso è stato denunciato. Personalmente ho appoggiato l'Avvocato Lentini e ho chiesto aiuto anche, e devo ringraziare, sia l'Onorevole Conte, che è intervenuto tempestivamente sulla situazione presso il Ministro, e sia l'Onorevole Ferraioli, che entrambi hanno dimostrato affetto e considerazione per questo territorio. Ho saputo anche che altri deputati, compreso il senatore Castiello, Casciello e altri, sono intervenuti. È chiaro che il mio intervento è un intervento ad integrazione del fatto dal mio Presidente che come espressione del Consiglio è stato fautore di grossissime iniziative, però io ci tengo a dire che è stata un'iniziativa totalmente sinergica tra il Consiglio, in combinato e disposto anche con il Tribunale nella persona del Presidente del Tribunale, dottor Gaetano De Luca, che hanno innanzitutto condiviso un piano di azione, sia politico che non politico. È chiaro che su questo piano di integrazione ognuno ha messo la sua azio, la sua forza imperativa rispetto al ruolo che ricopre. Questo è importante perché non si deve percepire l'idea che a Vallo ci siano dei nuclei autonomi, ci sia una scessione. In realtà si possono avere idee diverse, ma nella necessità, nella specie, c'è stata una sola idea, una sola voce, una vocazio, una chiamata ad uno solo ed esclusivo scopo. salvaguardare la nostra nicchia di legalità.